Ragazzi, al lavoro la gente fa molti disastri e può anche morire. Oggi vedremo disastri al lavoro, incidenti al lavoro, pazzi, idioti, al lavoro. Provano lì da tipo, ecco. Se cominciamo così, però, se cominciamo così, non è un granché. Ecco, è pure caduto. Ecco, che fa questo? Sì, già che succede qualcosa di male. Ma che cacchè è, se deve bere la birra. Oh, eh, trema pure. È ovvio, l'ha pure buttata la birra. Certo, oh mio Dio, qua succede grossa. Qua succede grossa. Ma travolta quello. Ma che è successo? No. Ecco, no, no. C'è un filo alla macchina! Attenzione! C'è un filo alla macchina! Quella se la tira! Attenzione! C'è attenzione! Dai, ma mi dispiace per la macchina di questo! Ma ci stava uno dentro! Spero di no! Perché se no era grave! Che fa questo? Ah, ah, ah! Che c'è un filo alla macchina di questo! Dai! Questa è una combina grossa, eh! Altro che noi! Ma che questo si fa male, se dice noi! Ma che la t'ammazzi! Altro! E cos'è stato? Che succede? Abbiamo capito di lasciare un like! Ma che cacchio fa? Ma che... O mette la sabbia e succede qualcosa! E quindi... Ah, rimette la sabbia! Ma è scemo! Ma che... Ma che era quello di prima! Ma che... Ho veduto! Ha veduto! Ho veduto! Ma che... Ma che... Ma che... Ma che... Ma che cosa sto sferendo! Non mi sto affagando! Ma che... Ma che era un dinosauro sto da... trasmiditerranea chi è stato quel tizio che è passato non ci credo ora cade sta cosa ma quella è la far grossa ma che succede quella che mi ha fatto burrere quella che buttava il culo da fuori e lo metteva in faccia a quegli idioti ma che cos'è ma che cos'è regà regà ma che sto a vedere ma che sto ma che sto un vortice nel mare la prima di che che è la t'ammazzi se vai là dentro ma che è e quindi che è quel palo ma io boh ma che fanno sti pazzi ma ma che ho combinato ma che stava montando eeeh se con la ruspa sul ponte quando ci vai se va bella da ammazzi seccati oh e quella è rimasta appesa come Tarzan ma che fa questo colpiselo ah no è un moccio ecco ah no era la birra non era un moccio che fa questo seduto ubriaco si tira un mattone in testa se ma là tu muori ma secondo me è finto è un lego ma non t'ammacci oh non t'ammacci ecco è morto perfetto oh ma che no questo ma questo gli va a finire addosso sto muro eh questo è pazzo regà ma che è colosseo quel muro cremo non dracca crema che è questo si ammazza pregate per il vostro amico ecco un'altra martellata e quel muro ciao ciao lo fa apposta regà lo fanno apposta non pregate per questi scemi idioti non lo fa apposta regà casca sto muro ma è una cascata quella dietro regà so curioso è mocare sto muro guardalo là guardalo è un'altra botta e tacchete prega per la tua testa guarda è una casa ed è finito sotto le macerie che fa l'avrà fatta patta secondo voi no che fa quello lì dietro non ci credo no aspettate ma sto pesci vendoli no che fa quello con la birra anche mi ha fatto scoppia vedetelo sto video se ridete sempre come Mauro lo saluto che fa sto cretino un fucile no entro la panno è la fase oh ma non gli lancia le botti le botti ma io questo regà muore ma che fa la battaglia tra le due ruspe là dietro ma che è la battaglia tra le ruspe che vincerà secondo me quella di sinistra ma che è ma che è ma che è stata a fare le due ruspe ma io ma io me ne vado via ma dai la pubblicità dell'iphone ma questi sono scemi ma non sapevo che vince quella di sinistra lo sapevo sapevo ancora la solleva ma che fa questo con sta macchina costa tanto non la rompere si vede pure la targa 470212 mamma mia che scemi ah no è l'ana F e se n'è andata è un amore questo ciao addio ecco lo sapevo regà lo sapevo ma che trasporta i corvi questo è paia è legno se è legno questo si squarta la testa la testa regà questo è legno lo sa cappotta sto ecco lo sa cappotta quest'albero cioè questo ecco lo sapevo lo sapevo che si si accappottava che non si è cappottato però si sta cappottando ecco mamma mia raga ma che storia loro quando hanno fatto sto video tre anni fa mamma mia marcello che dolore vabbè ragazzi direi di concludere qua spero che il video si sa ci lasciare piace iscrivetevi al canale no